Ti è mai capitato di vedere una volpe? In intervista Fermati e dimmelo Non ho capito Ti è mai capitato di vedere una volpe? Hai visto una volpe? Ti è mai capitato di vedere una volpe? No, non mi è mai capitato E ti è capitato di vedere uno scogliattolo? No, neanche Quelle animali, quelle mammifera del bosco ti è capitato di vedere? Un cervo Un cervo Hai visto un cervo? Dove? Abruzzo Quell'altro animale salvato ti è capitato di vedere? Dimmelo Che cosa? Quell'altro animale salvato ti è capitato di vedere? Un cinghiole Un rizzo? No, anche Beh, direi che questa è un'intervista già... Sai com'è una parola Metà, metà maiale... Metà topo? Metà maiale? Metà topo? No, non lo so Qua chi? La farmata è